C'era anche uno scanner per intercettare le comunicazioni delle forze dell'ordine tra il materiale sequestrato dalla squadra mobile di Pescara all'interno di un'abitazione a cappelle sul tavo. La perquisizione è scattata a carico di un pluri pregiudicato siciliano da tempo residente nella provincia pescarese, Antonio Galletta, 56enne, dopo che la volante nel corso di un controllo sul territorio ha trovato a bordo dell'auto sulla quale viaggiava una centralina elettronica. Nella sua abitazione sono state trovate numerose centraline elettroniche, targhe di auto rubate e un disturbatore di frequenza per neutralizzare i sistemi di allarme. Secondo la squadra mobile Galletta sarebbe un elemento di spicco di un'organizzazione specializzata in furti di auto. Nella provincia di Pescara ne sarebbero state rubate una decina, poi piazzate in provincia di Foggia. Sentiamo Pierfrancesco Muriana. È un soggetto sicuramente inserito in un contesto criminale più ampio ed articolato, ben organizzato. L'indagine è in corso quindi in molti dettagli non si possono fornire. Quello che possiamo dire ci sono altri due indagati è che c'era un asse stabile di collegamento con la Puglia, in particolare con la provincia di Foggia dove le auto rubate venivano dirottate. Nel garage dell'abitazione gli agenti hanno trovato anche un revolver Smith & Wesson calibro 38 Special, intestato un uomo di Roma e sicuramente detenuto illegalmente, e una scatola con 43 cartucce. Questa è la scoperta che inquieta di più e questo restituisce appunto l'idea dello spessore criminale di questo soggetto. Le indagini proseguono per risalire a eventuali altri complici. Galletta deve rispondere di traffico di auto rubate e detenzione abusiva di armi.